Buon appetito! Ma io credo che anche chi gestisce questo sito terrà presente le sensibilità e anche le giuste esigenze del governo cinese. Credo che farà di tutto per evitare così malintesi a questo proposito. Dottoronde noi dobbiamo comunicare il Vangelo di Gesù Cristo. Vangelo di Gesù Cristo è il Vangelo di Gesù Cristo. Vangelo di Gesù Cristo. Vangelo di Gesù Cristo. Vangelo di Gesù Cristo.